Iniziamo con la musica e iniziamo suonando che già questo ci dice subito che non sarà un convegno come tutti gli altri il Motel Connection I messaggi forti che noi vogliamo passare con questo tour è innanzitutto il fatto che ci sono delle possibilità aggregandosi per fare imprenditorialità Cioè si vede che c'è nel fare la start-up quello spirito che noi avevamo nel fare band nel fare rock e roll Il modo migliore per fondare una start-up è conoscere qualcuno che l'ha già fatto perché spesso e volentieri quello che manca non è l'idea non sono le persone, non sono le competenze, è il coraggio Se faccio vedere, per capirsi, guardando il colore del dito quindi usando semplicemente la telecamera io posso capire il battito cardiaco posso vedere il sangue che scorre nel dito perché cambia il colore del dito e quindi una volta che ho una frequenza cardiaca a generare musica in sincrono col mio cuore Il processo semplice, diciamo, le idee sono semplici semplicemente cerchiamo di ricostruire totalmente l'infrastruttura in una maniera che possa rendere trasparente per gli artisti dove sta suonando la loro musica quanto stanno guadagnando e quando verranno pagati in tempi, diciamo, realistici e soprattutto con informazioni in tempo reale Diciamo, oggi i soldi si possono trovare c'è il Venture Capital, ci siamo noi ci sono anche le istituzioni pubbliche che cercano, soprattutto sul territorio, di fare la loro si stanno democratizzando i mezzi della produzione Portare un gruppo musicale in una giornata come questa vuol dire anche raccontare un'esperienza Tutte le cose che sono state dette qua oggi sono importantissime credo che su una ci siamo un po' dimenticati che è la passione questo è l'ultimo cappello per far sì che non sia semplicemente un tocco musicale ma ci sia anche qualcosa in più Grazie Molte conneccio Molte conneccio Molte conneccio L'Ascro-Sofa Series E you will ask yourself a series of questions Am I happy with who I am? Am I happy with the people around me? Am I happy with who I am? Am I happy with the people around me? Am I happy with what I'm doing?